Un enoturista può scegliere Roccafiore perché offriamo un'esperienza sicuramente unica che non è fatta semplicemente di una visita in azienda, di una degustazione, offriamo un ambiente molto bello, offriamo musica in filodiffusione tra le barrique e tra i filari, offriamo un prodotto abbastanza unico che è il Jurassic Pork, quindi un'escursione in vigna con il fuoristrada, portiamo i nostri ospiti a visitare l'allevamento di maialini di Cinta Senese, appunto Jurassic Pork l'abbiamo chiamato e quindi è un'esperienza sensoriale a tutto tondo che va dalla degustazione del vino, al fatto di divertirsi anche con qualcosa che è fuori dal comune.